Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Rallentamenti per lavori anche tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte del Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Passiamo sulla 1 dove si segnalano possibili disagi a causa di un incidente avvenuto all'allacciamento con la 11 in direzione Pisa. Sul raccordo Siena Bettolle per lavori di pavimentazione è invece chiuso lo svincolo di taverne d'arbia in entrata e in uscita in direzione Bettolle. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze in via Taddeo Alderotti, incrocio con via Guido Banti, restringimento di carreggiate e possibili disagi in direzione Careggi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!